Belmonte è un borgo di origine medievale che funzionò nei secoli come rocca di difesa del feudo della chiesa. Nell'aprile 1875 è da una modesta famiglia di Belmonte che nacque Celestino Rosatelli, straordinario matematico, progettista e costruttore dei primi aerei che fecero grande l'arma aeronautica. Il paese riesce a coniugare le bellezze storiche come la chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore, con diversi percorsi naturalistici tra colline e montagna. Il tessuto sociale e culturale del paese è molto vivace, grazie all'animazione e alla partecipazione dei cittadini per eventi sparsi durante l'anno. Degni di nota le mura ciclopiche, conosciute come il Muro del Diavolo, il Ponte Romano è tra le chiese una delle più recenti come San Salvatore, custodisce un affresco di San Giovanni Battista e una copia del San Michele Arcangelo di Guido Reni. Belmonte serve come punto di partenza per la strada del Tartuffo e della Castagna, un itinerario naturalistico ed enogastronomico.